ciao ciao a tutti come vedete siamo qua con altri 20 21 persone per stasera che facciamo l'uscita in centro storico e poi andiamo a mangiare qualcosa e speriamo che il tempo ci sia d'aiuto perché sta iniziando a pioviginare quindi vedremo come andrà ci vediamo dopo ciao No, mamma! No, mamma! No, mamma!